Come funziona questa app e come Tutored può aiutare uno studente universitario? Fondamentalmente all'interno dell'applicazione noi abbiamo due grandi protagonisti. I primi sono gli studenti universitari e neolaureati. Quello che fanno è che si iscrivono all'interno della piattaforma, rilasciano il loro percorso di studi e come in ogni social network possono interagire con altri studenti per scambiarsi informazioni sui loro esami, appunti, ripetizioni e così via. Quello che succede è che lo studente può anche creare il suo profilo professionale, quindi un po' come avviene su LinkedIn, ma quello che succede è che la user experience è a mo' di studente. Quindi inserirò le mie competenze o esperienze come l'Erasmus, il volontariato e così via. E qui entra in gioco l'altro attore in Tutored che sono le grandi aziende. Le grandi aziende che all'interno dell'applicazione possono pubblicare delle proposte di lavoro, quindi degli stage, degli entry level o dei graduate program e in questo modo selezionare i migliori talenti all'interno delle università per trovare dei ragazzi che sono coerenti con le proprie esigenze aziendali e quindi assumerli. Quando avete deciso di creare questa app Tutored, ci sarà stato un momento in cui avete pensato ma è molto simile a LinkedIn, facciamola diversa, in che cosa si differenzia? Allora, la prima cosa per cui si differenzia è la tipologia di target. Sul LinkedIn si trovano molto bene quelle persone che possono già parlare di lavoro, quindi che possono scambiarsi informazione sui loro ruoli, sui topics che ci hanno all'interno dello studio e così via. Quello che abbiamo notato è che lo studente universitario su LinkedIn non è ingaggiato, non ha dei motivi molto definiti per poter avere una user experience importante su LinkedIn. Quindi proprio quello che è successo è che volevamo dare anche agli studenti universitari una piattaforma dedicata. Questo è il più grande motivo. Il cuore di tutta la questione. Gabriele, è vero che secondo te l'idea vale solo l'1% del successo di una startup o un'impresa e che poi tutto il resto lo fa il team, la squadra, insomma la consapevolezza di un gruppo. Sembra assurdo da poter dire una cosa di questo genere. Inizialmente io ne sapevo veramente poco di startup, chiaramente. Eccolo, nel frattempo stiamo vedendo il gruppo. Sì. È composto da uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette più un cane. Esatto. Questo è il nostro team di Roma. Noi abbiamo due sedi, una a Roma e una a Milano. E a Roma c'è tutta la parte tecnica e di marketing. Invece a Milano abbiamo creato il team sales e operation. In totale noi siamo circa 14-15 ragazzi. E diciamo che inizialmente io credevo che l'idea fosse tutto. Quello che poi mi sono accorto è che invece l'idea migliora in funzione dei risultati che ottieni e quindi di come risponde il mercato. Questi risultati li ottiene un team. Quindi fondamentalmente la nostra scelta è stata omettere tantissime distrazioni nella nostra vita, crederci fino in fondo e siamo partiti con un'idea che era quella dello student hub dove lo studente risolve solo il problema delle ripetizioni e degli appunti. Quello che poi è successo è che abbiamo ottenuto importanti risultati. Il mercato rispondeva in maniera estremamente importante e quindi il team ha trovato successivamente un'idea di business che è quella del recruiting e dell'employer branding. Fondamentale per il successo di piattaforme simili e la creazione di una rete fitta di utenti. Al momento quanti sono gli studenti che interagiscono? Allora, ad oggi noi ci definiamo attivi in Italia perché abbiamo superato una community di oltre 300.000 studenti universitari iscritti all'interno dell'app. Quindi sono tutti profilati e registrati. Equivale a oltre il 15% di tutti gli studenti universitari italiani. Quindi è una massa critica importante e per questo motivo abbiamo deciso poi di attivare un modello di business che permette alle aziende di trovare i migliori. Quello che adesso noi stiamo facendo è attivare questo modello di business, quindi Tutored, anche in altri paesi. E quello che notiamo è che anche, soprattutto in Francia, Spagna, Germania e UK, il business risponde veramente in maniera molto positiva. Andiamo adesso al sodo dal punto di vista economico. Ci vogliono i soldi. Sempre. Esatto. Come fate per cercare fondi o per farvi finanziare? Allora, la nostra grande difficoltà inizialmente è stata far capire ai fondi di investimento e ai business angels che utenti registrati e utenti ingaggiati vuol dire soldi in futuro. Questo, diciamo, era la nostra sfida. Perché? Perché Tutored è nata un po' come una start-up, passami il termine, all'americana. Quindi creare prima la community e poi trovare successivamente un modello di business. Quindi inizialmente, quando io mi sono presentato ai fondi di investimento, c'era un'idea concreta, insieme ai miei altri due soci, ma fondamentalmente gli investitori dicevano ok, tutto bello, dov'è che facciamo i soldi? Quindi siamo stati molto bravi a fargli capire però questo valore dell'utente registrato ed ingaggiato. Quindi siamo riusciti in Italia, solo con fondi di investimento italiani e business angels, quindi persone professioniste italiane, a chiudere un round di investimento totale per oltre un milione di euro. Questo ci ha permesso chiaramente di poter scalare e quindi creare un team di sviluppo, un team di marketing e soprattutto ottenere risultati. Circa otto mesi fa abbiamo attivato il modello di business che permette alle aziende di intercettare il nostro target e oggi abbiamo grandi aziende che possono intercettare gli studenti. Ora stiamo avendo quella curva in termini di fatturato e stiamo scalando molto velocemente. Davvero, davvero complimenti. Quante risorse siete riusciti ad ottenere in questi anni? Allora, in termini economici oltre un milione di euro, tutto in Italia. Tutto questo solo in Italia? Cioè un milione solo in Italia? Sì, esattamente. Chiaramente le risorse si possono definire sia economiche, ma una delle più grandi risorse che oggi ha Tutored è l'expertise di un team che non è composto soltanto da giovani, ma soprattutto anche sulla parte di sviluppo. Abbiamo delle persone senior che ci permettono di dormire qualche ora in più la notte, poiché se ci sono dei bug si riescono a sistemare. Tu sei relativamente giovane, quando parliamo però di app sei una persona normalissima, sei esattamente nella media, non solo italiana, ma planetaria. Come hai fatto a convincere business angel? Ci vuole anche una certa abilità, una certa consapevolezza. Alla fine sei creatore di una startup, allo stesso tempo sei anche manager di te stesso. Sì, io quello che ho imparato, e ripeto, ho poca esperienza, quindi magari mi sbaglio, è che non ci sono delle regole definite su questo, quindi non c'è la ricetta magica. Quello che secondo me ha suscitato molto interesse, ha confermato poi la partecipazione dei fondi di investimento e dei investitori, è che il team, quindi in questo caso io e i miei due soci, eravamo esattamente coerenti col problema che volevamo risolvere. Noi siamo studenti universitari, conosciamo il problema, conosciamo il target di riferimento e per questo motivo l'investitore dice questa cosa è estremamente in target, può funzionare. Chiaramente l'altro aspetto è la passione che uno ci mette, perché veramente per aprire una startup molto spesso si fa confusione, ma aprire una startup diciamo a pochi pro e tantissimi contro, quindi se lo vuoi fare veramente vuol dire che hai tanta passione. Mi viene da chiederti però, in ogni storia di ogni startup c'è sempre il socio che a un certo punto non è d'accordo, ci si dissocia, insomma tutte, possiamo citare Facebook, possiamo citare Twitter, c'è sempre un litigio alla base. Il gruppo ha detto che è importante, state lavorando psicologicamente anche su questo o il fatto che non ci siano regole vi porta così a navigare a vista? Allora noi abbiamo delle regole, perché bisogna avere delle regole interne, diciamo che se ad oggi ci troviamo in questa fase, che ripeto è iniziale, perché ancora bisogna veramente lavorare tanto, ma se ci siamo riusciti a levare qualche piccola soddisfazione, perché io ho avuto una grande fortuna di trovare inizialmente due persone che hanno la mia stessa identica passione e determinazione, ma hanno competenze e skills completamente differenti, quindi diciamo che noi rispettiamo veramente ogni ruolo, ci fidiamo l'un l'altro e veramente dall'essere soci si è anche uno scherzo fratelli da questo punto di vista, perché tutti abbiamo fatto una scommessa, quindi sarebbe controproducente fare la fine che hanno fatto molte startup e la grande difficoltà è trovare un team così, quindi trovare un team che sposa questa politica aziendale, che poi non è una politica aziendale ma è proprio una politica di vita, quindi la mia grande difficoltà è stata, ripeto, a 25 anni magari avere inizialmente un team che era diciamo un po' un porto, quindi persone che arrivano, persone che se ne vanno, oggi sono estremamente soddisfatto perché abbiamo un team che ha sposato perfettamente la nostra politica aziendale. Bene, bene, sei stato chiarissimo, concreto, complimenti Gabriele. Grazie. A te e a tutta la squadra, grazie per essere stato con noi. Grazie mille, grazie per l'ospitalità. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille.